Gian Paolo Medei, siamo alla vigilia dell'esordio nel Mondiale per Club, le tue sensazioni, le tue impressioni e naturalmente come sta la squadra? Le mie sensazioni sono buone, credo che sia individualmente che a livello di squadra siamo in una buona condizione. Nella vigilia della partita di Champions con Moda abbiamo avuto qualche problemino fisico, Sokolov ha avuto un paio di giorni di febbre, però sono situazioni che si sono sistemate. In più veniamo da una buona prestazione anche dal punto di vista tecnico, quindi sono fiducioso, credo che questa squadra stia partita dopo partita crescendo. Mi aspetto che in questo torneo facciamo ancora un ultimo passo per arrivare al livello di gioco che tutti ci aspettiamo e quindi credo che arriviamo in una buona condizione. Sarà importante iniziare con il piede giusto già domani contro il Belcato. Due gironi che sembrano costruiti un po' male, perché noi abbiamo un girone di ferro anche nel Mondiale per Club. Ma è il sorteggio, quindi non ci si può lamentare di questa cosa e poi noi vogliamo arrivare in fondo e siamo qui per obiettivi importanti e per raggiungerli bisogna battere tutti prima o dopo. Quindi noi pensiamo, siamo coscienti del nostro valore, affronteremo partita dopo partita senza preoccuparci troppo della formula del girone, cercando di portare sempre a casa la vittoria. Punto di partenza del secondo posto dello scorso anno? Sì, l'anno scorso questo torneo credo che per la squadra è stata una bella esperienza e è stato un torneo positivo. È ovvio che siamo qui per far di tutto per migliorare la posizione raggiunta l'anno scorso. Chi vedi tra le favorite? Io faccio un po' fatica, sia in questa competizione che nel campionato italiano c'è un po' la corsa a cercare di dare gli altri per favoriti. Io mi astengo da questa corsa, dico solo che la nostra squadra è forte, ha i mezzi per arrivare a degli obiettivi importanti e noi faremo di tutto per raggiungerli. Poi vedremo se ci sarà qualcuno più bravo di noi o no.